Colcuno per terra, così piacerebbe al segretario del Partito Democratico Bresciano vederci dopo che ha mandato a tutti gli amministratori locali della provincia di Brescia una lettera nella quale si invitano le amministrazioni a non aderire al referendum sull'acqua pubblica che è stato indetto dal Comitato Acqua Bene Comune Bresciano. Una posizione molto democratica dal suo punto di vista, ma del resto loro erano quelli che dicevano che col gestore unico Bresciano che dal 2018 vedrà la presenza di un privato tramite gara, comunque l'acqua non veniva privatizzata. Una coerenza che tutti oggi possono riconoscere, anche se la lettera è segreta, ma non così tanto perché noi ne siamo venuti a conoscenza. Un saluto a Michele Orlando e soprattutto non si preoccupi, noi ci riusciremo lo stesso a fermare questa privatizzazione.